Musica Siamo giunti a Bus Arstizio e siamo all'Istituto Tecnico Economico Tosi Allora, oggi vediamo un'altra scuola superiore e questa è particolare perché mette insieme esperienze anche all'estero Ma qual è l'elemento, prima di entrare, insomma, che da quello che hai studiato e che hai letto ti ha colpito? Ma di questa storia qui è il lavoro organizzativo cioè tante persone che un giorno dopo giorno, passo dopo passo, si mettono insieme e costruiscono una comunità di studenti attiva, fanno diverse attività, dibattito Sapevo che era una scuola diversa dalle altre, la nostra è una scuola innovativa facciamo tante attività e sentire parlare le persone che avevano frequentato questa scuola di queste attività che mi intrigavano, avevo voglia di essere parte anch'io di questo istituto Io amo questa scuola perché comunque le opportunità che dà, è veramente una grande famiglia non le dà solo ai ragazzi, ma le dà anche alla famiglia Tu ti senti protagonista di questa scuola o sostanzialmente tu devi fare quello che ti chiedono e quindi sei un semplice esecutore? No, penso di essere un attore attivo appunto all'interno di questa scuola Dove ci troviamo? Ci troviamo nella stata più bella d'Italia, tutto così di buzzi artizio È un istituto tecnico economico molto grande, abbiamo più di 2000 alunni nel diurno abbiamo il serale e abbiamo l'ITS, quindi l'istruzione tecnica superiore siamo radicati fortemente nel nostro territorio, nel mondo delle imprese, del lavoro, dell'università tutti i giorni noi ci attrezziamo per le competenze oltre che per le conoscenze Questa scuola all'anno prossimo compie 70 anni di vita, nasce come piccolissima realtà nel dopoguerra per quelli che volevano fare i ragionieri Questa è la bellezza del Tosi, noi siamo una scuola particolare in una città satellite intorno a Milano però in provincia di Varese, quindi con un'industria che è decaduta negli anni poco raggiungibili anche con i mezzi lontani dalle stazioni qui si è riusciti a creare un luogo che crea aggregazione, la scuola è aperta dal mattino alle 7 alle sera alle 11 tutti i giorni gli studenti possono rimanere, i docenti rimangono, hanno luoghi in cui possono lavorare ed è una scuola che ha saputo creare una forte attrattività Abbiamo oltre 200 insegnanti, abbiamo i conversatori, collaboratori tra collaboratori scolastici, amministrazione abbiamo una cinquantina di persone, abbiamo tutte le persone che lavorano in mensa, un'altra decina di persone e poi abbiamo un'associazione, l'associazione Noi del Tosi, che è proprio dentro la scuola, che vanta 9.000 soci sono ex studenti ma anche ottantenni, sono simpatizzanti, gente del territorio solo per dare un numero è la seconda associazione in Italia per numero di aderenti poi abbiamo una fondazione, che è la fondazione Merlini di quest'uomo particolare, un economista ultraottantenne, che si è innamorato della realtà del Tosi e che finanzia una serie di attività particolari, anche legate al mondo della cultura quindi siamo un villaggio all'interno di una città L'ambiente della nostra scuola è un ambiente assolutamente innovativo, diverso dagli altri dalla struttura, come il rapporto tra di noi, tra i professori abbiamo il nostro armadietto dove possiamo ottenere i nostri oggetti personali a livello di attività abbiamo il debate, l'attività di debate della nostra scuola è un corso che viene offerto agli studenti dalla prima superiore che porta a sviluppare le capacità di comunicazione si formano due squadre e questi studenti dibattono su un argomento comune ci sono i pro e i contro e alla fine c'è un vincitore progetti Erasmus, progetti PON, quindi che vanno a sviluppare per lo studente non soltanto quelle che sono le capacità cognitive ma anche quelle non cognitive perché i nostri ragazzi non stanno solo qui, sono spesso in giro per cui scambi internazionali in tutto il mondo, progetti di studio, di internazionalizzazione non soltanto di lingua, di lavoro anche, l'alternanza scuola-lavoro che è legge di Stato qui si fa dagli anni 80, cioè dal 1980 oltre alla parte economica, matematica, finanziaria, di diritto è fondamentale che oggi i ragazzi padroneggino tre lingue come padroneggiano l'italiano, anche meglio, quindi l'inglese per tutti una seconda lingua che possono scegliere per esempio il cinese siamo solo due scuole in Italia che hanno in un tecnico la seconda curricolare la seconda lingua cinese, abbiamo il russo anche e poi tutta una serie di altre lingue comunitarie la terza lingua ovviamente la scelgono Quando si parla di scambi internazionali si intende un periodo all'interno dell'anno scolastico in cui tu non sei presente in aula ma sei presente fuori aula ciò significa che sei all'estero per fare delle attività Per quanto invece riguarda proprio la scelta di mia figlia io non sono contenta, sono super soddisfatta lei parla inglese, tedesco e spagnolo in una marina favolosa stasera noi ospitiamo un ragazzo dal Belgio tra l'altro in carrozzina quindi comunque anche integrazione e opportunità per questi ragazzi è la quarta persona che ospitiamo e per noi è sempre un'esperienza di arricchimento anche in famiglia Noi valorizziamo molto, proprio in tema di benessere anche i momenti extrascolastici perché poi sono quelli che creano più comunità creano più aggregazione quindi non è soltanto il momento in classe o il momento di lavoro con i colleghi a essere l'elemento della scuola La scuola ci forma per diventare studenti consapevoli non ci priva del nostro ambiente ci dà libertà e questo secondo me è molto formativo Vi faccio vedere un programma che abbiamo usato e che useremo ancora molto spesso si chiama Viltour che è un programma pensato proprio per la realizzazione di tour virtuali e per l'esposizione a gruppi di studenti o quant'altro Forti delle esperienze del passato appunto adesso cerchiamo di fare una didattica che sia il più possibile integrata E quindi voi bocciate, non bocciate? Quali suoni sono un po' di numeri? Bocciamo poco, bocciamo quando è necessario la bocciatura non è una medicina orientiamo continuamente quindi abbiamo i nostri ragazzi che entrano il primo anno attraverso un progetto di accoglienza quindi iniziano tre giorni prima degli altri studenti facciamo con loro un percorso sulla propria personalità sullo stare insieme, sul lavoro di gruppo, sul fidarsi l'uno degli altri sull'utilizzo di una nuova strumentazione non utilizziamo i libri di testo, utilizziamo strumenti di altro tipo Il concetto di innovazione però non è fine a se stesso secondo me per esempio se io insegno economia aziendale nel momento in cui devo fare un lavoro, qualsivoglia con i ragazzi che per esempio prevede la compilazione di un modello, di un modulo anziché fare io la fattura sulla lavagna di Ardesia o magari abbiamo costruito con i ragazzi attraverso Excel il modello e anziché farlo io posso chiedere ai ragazzi col tablet attraverso la tv di fare lo screen mirroring e quindi di far vedere come loro dal posto andrebbero a compilare la fattura questo mi velocizza Allora qui i ragazzi prendono solo voti No, no, assolutamente no Noi lavoriamo per competenze competenza è il saper fare qualche cosa l'insegnante ovviamente ha l'espressione poi numerica di quello che è quindi dall'1 al 6 esprime la capacità dell'alunno non è una mera media matematica che noi facciamo di questi livelli e quindi di quella che è la competenza ma andiamo poi ad analizzare quindi facciamo una vera e propria valutazione e poi i ragazzi li monitoriamo se hanno delle competenze che non hanno raggiunto si recuperano le competenze si lavora, noi chiamiamo questi progetti personalizzazione e lo fate con corsi di recupero viene mandato a fare progetti di altro tipo magari facciamo impresa formativa simulata gli mandiamo a lavorare in un'azienda gli facciamo vedere che quello che si fa qui serve in altri contesti e va applicato in contesti non noti noi non sapremo cosa faranno da grandi non sappiamo neanche noi cosa avremo da grandi direi che il fiore all'occhiello del Tosi a parte il fatto che la scuola degli studenti sono i docenti un corpo docente preparatissimo, motivatissimo in linea con quella che è la filosofia del Tosi c'è un patto di corresponsabilità docenti scuola noi aderiamo a una filosofia che è quella di lavorare tutti nello stesso modo sicuramente è indubbio che ci impegniamo tantissimo entriamo a scuola e le attività sono tante il punto di forza è proprio la comunità il fatto che noi sappiamo anche di poter contare l'uno dell'altro non tendiamo a essere delle isole fra di noi quindi un arcipelago di insegnanti un arcipelago di insegnanti non è che non ci sia competizione chiaramente magari anche a partire dalle attività di dibattito che si fanno in classe quelli sono dei mini esempi appunto di competizione però secondo me il mondo del lavoro richiede sempre più quelle che sono delle capacità trasversali come potrebbe essere l'attività di gruppo appunto il team working quindi la capacità di saper lavorare con l'altro anche appunto sapersi adattare quelle che sono le richieste di tutti gli altri e questo davvero la nostra scuola ci aiuta molto la metodologia deve essere innovativa lo studente al centro bisogna lavorare per competenze e non solo per conoscenze bisogna farlo in gruppo non si può programmare da soli non posso chiudere la porta e non esiste solo la mia disciplina Abbiamo selezionato questa scuola per tanti motivi il primo ce l'hanno segnalata in tanti tanti ci hanno detto guardate che in questa scuola si fa veramente tanta innovazione per il bene di tutti per il bene degli studenti delle famiglie del territorio ci è piaciuta davvero tanto siamo venuti qui abbiamo parlato con tutti e abbiamo visto una comunità bella attiva una comunità scolastica che non è solo studenti e professori ma dentro ci sono le famiglie dentro ci sono gli ex alunni dentro ci sono tutte quelle realtà del territorio e anche internazionali che lavorano con la scuola questa scuola è stata scelta da Shoga come una scuola changemaker come mai? la leadership diffusa questa è una scuola enorme noi siamo davvero una città non posso gestire tutto non posso conoscere ogni processo mi devo fidare moltissimo io mi fido a occhi chiusi dei miei collaboratori tutti quanti quindi ciascuno ha la sua responsabilità che condividiamo e che è un po' il senso della nostra realtà altrimenti non potrebbe vivere in questo modo è assolutamente importante essere changemaker fare il cambiamento vuol dire non perseguire la logica della moda del cambiamento ma essere consapevoli che quello che i nostri ragazzi faranno quando usciranno da qui da qua a cinque anni probabilmente saranno delle professioni dei lavori o dei contesti che attualmente non esistono essere changemaker vuol dire predisporre la mentalità del cambiamento ai ragazzi secondo me permettere ai ragazzi di essere assolutamente pronti ad ogni situazione possibile per cui diamo agli studenti l'idea reale che il mondo è davvero piccolo come lo vedono in internet è davvero raggiungibile e soprattutto che siamo tutti sotto lo stesso cielo devono sapere che quello che facciamo qui succede in India succede in Islanda siamo tutti uguali la fortuna o la sfortuna di nascere in un luogo della terra non è una cosa che possiamo scegliere di questa scuola ci si innamora per cui non si dirige un istituto non si frequenta un istituto non si lavora in una scuola si partecipa a un progetto di vita qui si sposa la filosofia del Tosi che è molto di più di una scuola è un'occasione per tutti cosa ti rimane impresso della giornata di oggi? mi rimangono impresse il senso d'appartenenza di tutte queste persone che abbiamo incontrato cioè tutti dicevano noi, noi, noi e questo entusiasmo questa proprio parola greca è enteos cioè tutta gente che sta in Dio si sente da Dio e ha veramente voglia di creare voglia di fare devo dire che la cosa che mi colpisce di più da non esperto di scuola facendo questi incontri nelle scuole è quanto cose un cittadino comune come questo storico non sa della scuola nel senso che abbiamo un'idea di scuola rigida uno pensa la scuola è in un certo modo mi piace o non mi piace in realtà quello che sto scoprendo è che la scuola è in tanti modi viva la scuola che apre alla gioia degli alunni e la felicità si fa bene a tutti e anche proprio la scuola che apre le porte e anche per noi da mattina alla sera grazie